Questo è un cuscino molto particolare come può sentire e odorare all'interno ha del legno di cirmolo eccomi ho la sua colazione abbiamo dei pancake selezioni l'area secondo me il nostro sistema sta decidendo in quale destinazione casuale farla volare è stata veramente fortunata benvenuti su Dream Airlines la compagnia che vi porta in destinazioni da sogno grazie di essere qui con noi oggi salve ha messo la cintura perfetto le volevo dire che lei come vede ha più spazio davanti a lei e delle persone che le stanno intorno questo perché lei ha scelto durante il momento del check in di sedersi su un'uscita di sicurezza appunto per avere ancora più spazio quindi le chiedo se gentilmente può leggere attentamente le nostre istruzioni d'uso esatto esatto sono molto semplici questo non è il suo primo ruolo non è vero perfetto però appunto deve dare un'occhiata approfondita questo foglio lo trova appunto esattamente davanti a lei nel suo sedile sì partiremo proprio in questi istanti ok ha sentito io devo andare a sedermi perché stiamo appunto per decollare e se lei ha bisogno mi chiami pure fra poco dopo il decollo verrò da lei per darle tutti i nostri gadget per il suo benessere e rilassamento completo si gode il decollo grazie grazie eccomi tornata allora per il suo riposo abbiamo intanto davanti a lei ci sono delle cuffiette per poter ascoltare tutti i file multimediali che la nostra compagnia le propone le offre poi ho questa splendida e morbidissima mascherina per gli occhi è regolabile e ovviamente quando scende la sera metteremo le luci spente però se lei magari le fa comodo anche a disposizione è questo per poterle posare al meglio anche quando le luci saranno accese o comunque ci sarà il sole fuori bene la coperta è molto calda molto 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 ampia le copre tranquillamente tutto il corpo dalle spalle ai piedi si si sa sull'aereo c'è sempre un po' più freddo è normale ok anche questo a lei poi per il suo relax più completo posso offrire questo cuscino molto semplice molto morbido da mettere dietro al collo dietro alla schiena o sul sedile valuterà lei qual è l'opzione che più va al suo caso le può servire? bene e poi se vuole posso anche darle questo ulteriore cuscino si si assolutamente in aggiunta questo è un cuscino molto particolare come può sentire e odorare all'interno ha del legno di cirmolo non ho mai sentito parlare? è un legno speciale utilizzato in questi cuscini apposta per il suo effetto di benessere dato sia dall'odore sia dalla consistenza del cuscino inoltre questo cuscino è leggermente riscaldato ed è fatto proprio apposta per metterlo dietro al collo per poter alleviare per poter alleviare alcuni dolori cervicali insomma si sa che i voli tendono molto a provare la nostra zona del collo e della schiena soprattutto quindi è interessato glielo posso lasciare? ok perfetto molto bene torno subito per portarle il nostro menu del giorno attraverso il quale potrà scegliere il suo pasto durante questo volo le ricordo che lei ha scelto la colazione durante il check in perché le verrà portata le verrà servita a breve perfetto vado a prenderlo subito ecco qua i menu e ovviamente qui non ci sono scritte le bevande perché noi abbiamo un'infinita scelta che potrà vedere appena passerò con il carrello non si preoccupi allora come primi piatti abbiamo l'opzione fra dei maccheroni con sugo alla norma puoi scegliere secondo senza formaggio oppure delle buonissime trovie al pesto genovese come come secondi i piatti abbiamo delle polpette di lenticchie al sugo queste sono completamente vegetali e poi abbiamo delle buonissime frittelle con provola e zucchine i nostri ingredienti sono assolutamente freschissimi e di altissima qualità come dessert abbiamo veramente una specialità un qualcosa che non si può perdere infatti abbiamo questo tortino con crema di nozzole e cioccolato fondente non le dico non le dico come snacks che verranno distribuiti a lei durante il corso del volo abbiamo un mix di frutta secca e del gelato perfetto allora io questo lo lascio a lei certo poi quando passerò mi dice semplicemente mi dirà semplicemente cosa scelto cosa desidero bellissimo arriviamo subito con la colazione eccomi ho la sua colazione abbiamo dei pancake tre per l'esattezza ci piace che mi piace fare prevede le colazioni abbondanti e poi ho una selezione di marmellate per lei le appoggio pancake e le mostro le marmellate d'accordo? le posate quindi qui abbiamo una marmellata di arance buonissima e miele semplice due tipi di confetture alle ciliegie diversi questa è un po' più dolce mirtilli molto buona forse la mia preferita frutti di bosco misti ripest nero anche questa meravigliosa infine abbiamo infine abbiamo fragole un classico e pesche sono tutte veramente buonissime quale preferisce? ok l'olive l'olive e il miele perfetto poi da bere gradisce qualcosa posso offrirle un bicchiere di latte anche ricettare se vuole un tè una tisana allora le porto le nostre selezioni di tè arrivo subitissimo eccomi intanto la sua tazza poi posso offrirle un tè nero che si chiama Noël a Vienna con tè nero scorza di arancia ananas albicocca cioccolato e vaniglia buonissime oppure un classico tè nero english breakfast abbiamo questo multivitaminico che è uno speciale infuso a base di frutti di bosco ma con note anche di mela e di arancia molto particolare mi sento davvero di consigliarlo per quanto riguarda invece una tisana delle erbe ho per lei questa miscela fatta apposta per essere testata al mattino come un po' la sera anche questa è veramente speciale altissima qualità mi dico ok multivitaminico perfetto adesso le prendo anche l'acqua calda ecco qua benissimo io le auguro di godersi il pasto e di godersi questo volo al di fuori abbiamo uno spettacolo della natura guardi sembrano montagne di nuvole in realtà si vedono anche le montagne se guarda bene quindi spero si rilassi per qualunque 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 richiesta mi chiami pur si goda la sua colazione mi ha chiamato? prego prego mi dica Ok, allora ne basterà semplicemente apprimere quel testo rosso, ok, esattamente quello, perfetto. E adesso come vede si è attivato lo schermo e in realtà io vi spiegherò cosa possiamo offrirla. Buongiorno e benvenute su Dreams Headlines. Oggi sono qui per spiegarle un pochino cosa offriamo su questo volo. Qui va una vastissima selezione di film e serie tv sia in lingua madre sia sottotitolati. Qui trova una vasta ampia scelta di giochi e trova anche il joystick lì, proprio davanti sotto allo schermo. Qui in basso abbiamo la mappa. Infatti noi siamo disposti di telecamere al di sotto dell'aereo e sulle aeree per permettere ai passeggeri di vedere dove stiamo volando. E qui sotto ci sono dei video ASMR. Non so se lei sappia cosa sono i video ASMR ma non ce li potevamo far mancare essendo una compagnia che mira al benessere e al relax del passeggero prima di tutto. I video ASMR sono dei video fatti per rilassarla. Puoi trovare persone che parlano a bassa voce, suoni o situazioni della vita reale che possono essere piacevoli da rivivere. prego, selezioni l'aereo di interesse. Cosa ha scelto, se posso permettermi di chiederle? Ha dato un'occhiata ai nostri video ASMR. Non si trovano nei voli di solito, noi siamo i primi. Ci piacciono essere i migliori, ci piacciono essere innovativi. No, è giusto magari puoi riposare subito dopo il pranzo. Ha visto che se c'è qualche serie tv che le può piacere, sono contenta. Benissimo, benissimo. Mi dica. Certo, si può vedere. Esatto. Premali. Ok. Allora, come vede, qui abbiamo selezionato per lei delle delle immagini dell'isola che non c'è. Ovviamente noi atterreremo su un'isola principale e poi lei, sempre accompagnato dalla nostra compagnia, scusi il gioco di parole, verrà trasportato verso il luogo di destinazione attraverso un trasporto navale. Esatto. no, non ci sarò io, io devo fare purtroppo il ritorno. Sì. No, no, è circa un'oretta di nave. Esatto. Qui abbiamo delle foto dal drone, abbiamo questa bellissima barriera corallina. Eh sì, ci sono stata, ci sono stato un annetto fa, è bellissima. E qui potrà usufruire di tantissime attività. Conosco bene la struttura, è l'unica sull'isola, c'è solo la sua struttura. E può fare snorkeling, diving, se non hai il brevetto, può fare il corso direttamente io. Lo che stai per guardare è un video ASMR in cui mi occuperò di eliminare le tue emozioni negative. ognuno di essi ho scritto un'emozione o uno stato d'animo negativo e andrò a rimuoverle uno ad uno. l'insicurezza. Bene, è arrivato il momento di gestinare questa insicurezza. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Lori ASMR. oggi sono qua con il bluietti. Perché? Perché vorrei fare un video mic scratching, 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 scratching. Ciao! 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 Tornado, benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Priscilla ASMR e oggi andremo a fare un rilassamento guidato. Cominciamo con una buona respirazione che è alla base di qualsiasi forma di rilassamento, quindi respiriamo un po' insieme, molto, molto, molto profondamente. Bene, così, lasciamo andare tutte, 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 tutte le tensioni che stessi si collocano qui, sul nostro collo. Sulle nostre spalle, sulla nostra nuca. Ciao, sei qui per fare il testero? Ottimo, ottimo. Siediti pure, siediti pure. Allora, incomincierei, se per te è ok, a prendere alcuni dati personali. Allora, dovresti gentilmente dirmi il tuo nome completo? Ok, data di nascita. Avvicinarmi un pelo di più, vorrei controllare singolarmente i tuoi occhi con questa lucettina. Allora, incominciamo con il tuo occhio sinistro. Ok, sbatti le palpebre. Ok, guarda, verso il basso. Salve, prego, prego, si accomodi. Sono a sua disposizione se ha bisogno di qualcosa. Dimmi tutto di cosa hai bisogno, come posso aiutarti. Ha un profumo, benissimo, sei nel posto giusto. Dunque, inizierei da Melagrana del Bosforo, questo profumo qui. Melagrana del Bosforo. Questo è un profumo a cui personalmente sono molto affezionata perché mi riporta a odori dell'infanzia, non so perché. E di conseguenza lo propongo sempre molto volentieri alle mie clienti. Che dire di questo profumo? Diciamo che è un profumo speziato, ma anche fruttato e con delle note di muschio e legnose. Bene, il risultato è una fragranza che lascia una bella scia seducente ma fresca, direi. Adesso te lo faccio sentire prima così. Cioè, si sente molto bene perché ha un bel carattere questo profumino qua. Ciao, ciao Stelina, come state? Io, ovviamente, spero che vada tutto, 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 molto, molto, molto bene. Oggi ho deciso di farvi addormentare con le mie carezze. Innanzitutto rilassati, predisponiti al rilassamento, scattando via tutto, tutto. Tutto, 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 so che ti preoccupa e non ti lascia dormire serenamente. Così. Salve, prego. Quindi hai bisogno di un massaggio al collo. Non va, eh? Ci siamo. Ok, massacciamo. Ok. Ok. Grazie. Vi rilassi. Sento già il muscolo. E si sta sciogliendo. Ciao Anastasia, come stai? È già un po' che non ci vedevamo. Beh, sì. E sei pronta per farti coccolare bene bene? Per controllare un po' la pelle? Per fare qualche trattamento un po' speciale? Perfetto, tesoro. Perfetto, tesoro. Senti, no? Non brucia, infatti. Certo. Chi usa il dermaroller con gli acchi più profondi, insomma, più lunghi, ovviamente, un pochino di dolore lo può sentire, eh? Un pochino è normale. Perché comunque sono acchi che vanno ad infilarsi nella pelle. Questi invece sono talmente corti che servono solo ed esclusivamente a fare una microesfoliazione superficiale. Adesso andiamo anche in quest'altro verso, sulla fronte. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Grazie a tutti.